36 lavoratori impiegati in nero o comunque irregolari è quanto scoperto dai finanzieri della compagnia di Cerignola in una RSA a seguito di un controllo finalizzato ad accertare il rispetto degli adempimenti fiscali in materia di lavoro. Le attività ispettive condotte dalle fiamme gialle hanno permesso di constatare numerose violazioni a carico della struttura sociosanitaria della città del tavoliere. Dei circa 50 lavoratori impiegati, 21 sono risultati completamente in nero, di cui 4 percepivano anche il reddito di cittadinanza e 15 irregolari in quanto sprovvissi di copertura assicurativa INAIL. I dipendenti in nero erano stati inquadrati come soci volontari e gli emolumenti loro corrisposti venivano documentati sotto forma di rimborsi spese. Gli accertamenti eseguiti dai finanzieri, anche mediante l'esame di documentazione bancaria, hanno invece dimostrato l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con il pagamento di retribuzioni soggette alle ritenute previdenziali e assistenziali, oltre che a quelle fiscali. Le sanzioni contestate arrivano fino a un milione di euro. È stata proposta alla Direzione Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività in conseguenza dell'impiego di lavoratori in nero, in misura superiore al 10% del totale dei dipendenti, e per i beneficiari di reddito di cittadinanza è stata inviata segnalazione all'Inps per la sospensione del contributo inevitamente percepito. L'azienda ha provveduto a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati in nero, assumendoli dalla data del loro effettivo impiego e garantendo loro tutte le forme assicurative previste.